Sono entrati in banca disarmati e con le sole minacce si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, dandosi poi alla fuga. Autori del colpo, quattro banditi dall'accento meridionale, che questa mattina hanno messo a segno una rapina ai danni della filiale della cassa di risparmio di Ascoli di Via Mare a San Benedetto. Tre di loro, con il volto nascosto da calzamaglie, sono entrati nell'istituto di credito e hanno intimato agli impiegati di consegnare il denaro. Poi si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Punto, dove li attendeva il quarto complice. L'auto, rubata in mattinata nella cittadina, è stata ritrovata poco distante. Il bottino deve ancora essere quantificato, ma monterebbe a circa 4 migliaia di euro. Una rapina con le stesse modalità era stata messa a segno martedì a Sant'Egidio alla Vibrata. Due giorni fa venne presa di mira la Tercas nel cuore del comune vibratiano. Il colpo fruttò un bottino di circa 10.000 euro. Gli autori erano sempre tre senza armi. Un quarto li attendeva in auto per trasportarli in direzione mare. Sul colpo di Porto d'Ascoli stanno facendo luce i carabinieri della stazione di San Benedetto. Nonostante sia subito scattato il piano antirapina, non è stato possibile fermare i quattro malviventi, che dopo essersi sbarazzati della punto, hanno probabilmente proseguito il tragitto separati e con macchine differenti.